Il territorio e il lago di Como è molto affascinante, praticamente si vende da solo. Questo elemento però non è più una garanzia, bisogna migliorare i servizi di accoglienza turistica. Il prefetto di Como, Bruno Corda, avverte gli imprenditori e i soggetti comaschi del settore. L'ha fatto oggi, a margine della conviviale del Rotary Club, Como Baradello. Interpellato sui segnali di ripresa dell'economia comasca, il prefetto ha spiegato come i dati più incoraggianti arrivino soprattutto dalle aziende capaci di creare prodotti unici, come i mobili, che primeggiano sui mercati internazionali. Altra caratteristica delle aziende in ripresa, ha aggiunto Bruno Corda, è la forte propensione all'esportazione, ma il rapporto con l'estero, ha detto ancora il prefetto, deve essere di vendita e non di esternalizzazione, perché le caratteristiche e il valore del nostro prodotto sono determinati dal lavoro di chi opera sul nostro territorio. Quindi il prefetto di Como ha affrontato l'argomento turismo. Un'altra sistemazione va data, senz'altro, al sistema turistico. Probabilmente abbiamo la fortuna di avere un territorio talmente bello che si vende da solo. In questo momento siamo in un momento in cui invece questo non è più una garanzia. C'è stata una bella risposta quest'anno, soprattutto dal mercato esteri, e questo è un bel segnale, ma dobbiamo stare molto attenti al fatto che adesso la richiesta turistica è estremamente qualificata e richiede delle cose di più superiori, più importanti, più qualificate di quanto non potesse succedere anche soltanto sino a pochi anni fa. Grazie. 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 Grazie.